È stato denunciato dalla Polizia Municipale di Caltanissetta per omissione di soccorso. L'episodio si è verificato lo scorso 26 gennaio, quando un ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto in un incidente, è andato via senza prestare soccorso. Lo scontro fra due auto avvenuto in Viale Regione ha causato il ferimento di due fratelli a bordo di una delle due vetture. Una volta trasportati in ospedale, sono stati medicati e dimessi con 10 giorni di prognosi. Il conducente dell'altra auto, protagonista del sinistro, invece si è allontanato. Così è iniziata l'attività investigativa della Polizia Municipale, che ha identificato il ragazzo di 19 anni, sanzionato con il ritiro della patente e la denuncia per omissione di soccorso. Un altro incidente, con epilogo diverso, si è consumato lunedì sempre nel capologo Nisseno, in corso Umberto. In particolare una donna di 62 anni, travolta da un Audi che procedeva in retromarcia, è caduta battendo il volto sull'asfalto. L'uomo alla guida si è tempestivamente fermato e ha soccorso la donna. Sul luogo sono arrivati la Polizia Municipale e i sanitari del 118, che hanno trasportato la 62enne in ospedale, dove le sono state riscontrate ferite, fortunatamente non gravi.